Ben trovati alle nostre video lezioni, oggi continuiamo a parlare di Aristotele e parliamo della fisica aristotelica, quindi lasciamo da parte la metafisica, quindi lo studio delle strutture profonde della realtà e andiamo invece a parlare del mondo che ci circonda, anche se come vedremo sin dall'inizio i legami tra fisica e metafisica sono molto stretti in Aristotele, perché noi ripartiamo proprio da dove ci eravamo lasciati, abbiamo accennato nell'ultima video lezione al concetto di motore immobile, cioè il dio aristotelico che stando fermo muove tutto l'universo e quindi abbiamo accennato già a qualcosa della fisica, cioè il fatto che tutto l'universo, tutto il cosmo aristotelico è in movimento, più tardi vedremo anche proprio uno schema dell'universo aristotelico. La fisica o filosofia seconda, mentre abbiamo detto che la metafisica era la filosofia prima, è la scienza che si occupa di studiare questi movimenti, analizzando tutto quanto avviene in natura. Le cose, secondo Aristotele infatti, si classificano in base al loro tipo di movimento, quindi la fisica aristotelica è una fisica dei moti, sostanzialmente. Per Aristotele ci sono quattro tipi di movimento o mutamento, perché la parola movimento in verità ha un'accezione più ampia, indica il cambiamento, tutti i tipi di cambiamenti che noi possiamo osservare. E quali sono questi mutamenti? Innanzitutto abbiamo un mutamento di tipo sostanziale, il mutamento sostanziale, cioè quei mutamenti per generazione e corruzione. Quando le cose vengono generate, quindi appaiono, possiamo dire compaiono, e quando vengono corrotte, cioè si distruggono. Questo tipo di mutamento è un mutamento che incide sulla sostanza stessa delle cose. Cioè una sostanza può essere generata, che può essere corrotta, essere distrutta. Quindi questo è un mutamento di tipo sostanziale, che incide sull'essenza stessa delle cose. Poi abbiamo il mutamento di tipo qualitativo. Qualitativo si parla di mutamento, propriamente detto, ma è di alterazione, cioè quel tipo di mutamento che va a incidere sulle qualità non sostanziali ma accidentali delle cose. Quindi, se prendiamo l'esempio di un essere umano, di una persona, parliamo di mutamento sostanziale nel momento in cui la persona viene generata, inizia a vivere, e nel momento in cui una persona muore. La corruzione, il suo corpo si disfa. Un mutamento di tipo qualitativo invece incide sulle caratteristiche accidentali, non sostanziali, di un essere umano. Ad esempio, la perdita dei capelli, il fatto che io posso tagliarmi la barba, che non posso vestirmi in un'altra maniera. Quindi tutta una serie di caratteristiche che possono esserci, possono non esserci, ma la sostanza non viene intaccata. Mutamento sostanziale, mutamento qualitativo. Abbiamo un mutamento quantitativo, aumento e diminuzione. Anche in questo caso, tenendo l'esempio dell'essere umano, io posso aumentare di peso o perdere di peso, o perdere peso, aumentare di volume o perdere volume. Aumento e diminuzione. E poi abbiamo infine il cosiddetto mutamento locale, o movimento locale, che è proprio lo spostamento vero e proprio. Quindi noi abbiamo il concetto più ampio di movimento come mutamento, però abbiamo il movimento locale, che è proprio il fatto che le cose, gli enti, si possono spostare nello spazio. Ed è il movimento fondamentale per Aristotele. Il movimento locale, oltretutto, secondo Aristotele è di diversi tipi, in particolare di tre tipi. Il movimento locale può essere, il moto può essere circolare, possono muoversi di moto circolare, possono muoversi dal centro del mondo verso l'alto e viceversa dall'alto verso il centro del mondo. Tutti gli altri movimenti che noi possiamo notare, rettilinei o con variazioni, obliqui, sono combinazioni, secondo Aristotele, di questi movimenti fondamentali, circolari dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto. Perché questa distinzione? Perché il movimento, perché gli ultimi due movimenti, quello dall'alto verso il basso e dal basso verso l'alto, per Aristotele sono caratteristici di tutti i corpi terrestri, che sono composti dai quattro elementi. Quindi tutte le cose, tutti gli oggetti che noi osserviamo in questo mondo, sono composti di acqua, aria, terra e fuoco. E i corpi terrestri sono soggetti a tutti i tipi di mutamento o movimento. Cosa vuol dire? Che sulla terra, noi osserviamo tutti i quattro tipi di mutamento che abbiamo detto, sostanziale, qualitativo, quantitativo locale e per quanto riguarda il moto locale, il movimento locale, i corpi si muovono dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto. Perché questa distinzione? Perché per Aristotele i corpi celesti invece si comportano diversamente. In quanto perfetti, tutto ciò che sta nel cielo è qualcosa di perfetto, nell'autica aristotelica, hanno delle regole diverse rispetto alla terra. Quindi la fisica celeste si comporta diversamente dalla fisica terrestre. Quindi i corpi celesti innanzitutto non sono formati da nessuno dei quattro elementi, ma da un quinto elemento perfetto, incorruttibile, che è l'etere. Essendo perfetti, non possono innanzitutto né subire mutamenti sostanziali, qualitativi, quantitativi, perché sono perfetti appunto. risentono solo, possono avere solamente un movimento locale, quindi un moto vero e proprio, ma i corpi celesti non possono avere movimenti dall'alto verso il basso o dal basso verso l'alto, ma solamente un movimento perfetto, che è il movimento circolare, un movimento locale tipo circolare. Quindi, riassumendo, mentre sulla terra assistiamo a un gran numero di mutamenti, movimenti e movimento dall'alto verso il basso e basso verso l'alto, per i corpi celesti è concesso solamente un mutamento locale e un moto di tipo circolare. Tornando a parlare dei corpi terrestri, per spiegare in che modo si muovono i corpi sulla terra, Aristotele utilizza la teoria dei morti naturali e morti violenti. Su quale regola dobbiamo basarci per capire in che modo si muovono i corpi? Per quale motivo i corpi si muovono? Ci dice Aristotele. A causa della loro composizione stessa. Nel senso che, a causa del loro peso, degli elementi che lo compongono, gli oggetti, gli enti composti in particolar modo di acqua e di terra, tendono naturalmente ad andare dall'alto verso il basso, mentre i corpi, composti prevalentemente di aria e fuoco, tendono ad andare dal basso verso l'alto. Questo è il loro moto naturale. Il moto violento è il contrario, nel senso che io per far andare un corpo prevalentemente composto di aria verso il basso, devo usargli violenza, devo imprimere una forza. Viceversa, per far andare un corpo composto prevalentemente da terra verso l'alto, dovrò lanciarlo, quindi a suo modo, in questo caso, usare un moto di tipo violento. Tutto questo rientra nella più ampia concezione aristotelica dell'universo. Noi sappiamo che già alcuni filosofi precedenti avevano riflettuto sulla natura dell'universo, i pitagorici, ma poi soprattutto Democrito, che vive pochi anni prima di Aristotele. Aristotele si confronta con la visione dell'universo di Democrito, l'atomismo, adesso non stiamo qui a rivedere le caratteristiche, diciamo solo che, come avevamo detto a suo tempo, Democrito si fa portatore di una visione meccanicistica dell'universo, per cui tutto ciò che avviene nel mondo, nel cosmo, avviene secondo nessi causa-effetto. Una determinata causa corrispondono determinati effetti. Vediamo quindi tutto, l'universo è considerato come un unico meccanismo che funziona, secondo nessi causa-effetto. Vediamo ora, attraverso un testo, come Aristotele rifiuta la concezione meccanicistica di Democrito. Contro il meccanicismo di Democrito, secondo cui tutto avviene senza alcun fine e non in vista del meglio, Aristotele osserva che, accettando queste premesse, non si può dar ragione né dell'ordine e della regolarità del mondo, né del processo per cui gli enti naturali si generano, giungono maturazione e si corrompono. Occorre quindi pensare a una causa finale che sia immanente alle singole sostanze. Ma nasce un dubbio. Che cosa vieta che la natura agisca senza alcun fine e non in vista del meglio, bensì come piove Zeus non per far crescere il frumento, ma per necessità? Difatti ciò che ha evaporato deve raffreddarsi e una volta raffreddato diventa acqua e scende giù. E che il frumento cresca quando questo avviene, è un fatto occidentale? E parimenti, quando il grano poniamo si guasta sull'aia, non ha piovuto per questo fine, cioè affinché esso si guastasse, ma questo è accaduto per accidente. E quindi nulla vieta che questo stato di cose si verifichi anche nelle parti degli esseri viventi e che, ad esempio, per necessità, i denti incisivi nascono acuti e adatti a tagliare, quelli morari invece piatti, è utile masticare il cibo, ma che tutto questo avvenga non per tali fini, bensì per accidente. E così pure delle altre parti in cui sembra esserci la causa finale. Questo o su per giù questo è il ragionamento che potrebbe metterci in imbarazzo, ma è impossibile che la cosa stia così. Infatti, le cose ora citate e tutte quelle che sono per natura si generano in questo modo o sempre o per lo più, mentre ciò non si verifica per le cose fortuite e casuali. Difatti, pare che non fortuitamente né a caso piova spesso durante l'inverno, ma sotto la canicola sì. Né che ci sia calura sotto la canicola, ma in inverno sì. Dal momento che dunque tale cose sembrano generarsi o per fortuita coincidenza o in virtù di una causa finale, se non è possibile che esse avvengano né per fortuita coincidenza né per caso, allora verranno in vista di un fine. Ma tutte le cose di tal genere sono sempre conforme a natura, come ammettono anche i meccanicisti. Dunque, nelle cose che in natura sono generate esistono, c'è una causa finale. Vediamo come in questo testo Aristotele appunto ragiona osservando la natura, dicendo in tutta la natura è evidente che ci sia una causa finale. È impossibile affermare che tutto avvenga semplicemente per messi causa effetto e non in vista di qualcos'altro. Quali sono gli esempi più significativi che fa? Quando parla dei denti. Perché noi abbiamo denti incisivi, denti molari? È impossibile che questa cosa sia stata creata in vista del fatto che dobbiamo masticare nel cibo. Così come è impossibile dire che piove se non in vista di far crescere le piante, comunque per dare la vita a tutti gli esseri viventi. Quindi su questo Aristotele si basa, su questo ragionamento, per cercare di smettire il meccanicismo di stampo atomistico. Quindi tutte le cose che vediamo in natura non avvengono per caso, non avvengono senza un motivo in vista di cui noi abbiamo i denti perché dobbiamo mangiare. Nelle cose che in natura sono generate e esistono, c'è una causa finale e noi già l'abbiamo visto parlando della metafisica che la causa finale è una delle quattro cause fondamentali dell'essere. E oltre, in tutte le cose che hanno un fine, in virtù di questo si fanno alcune cose prima, altre dopo. Quindi, come una cosa è fatta, così è stata disposta per natura e per converso, come è disposta per natura, così è fatta, purché non vi sia un qualche impaccio. Ma essa è fatta per un fine. Dunque, per natura è disposta a un tale fine. Ad esempio, se la casa facesse parte di prodotti naturali, sarebbe generata con le stesse caratteristiche con le quali è ora prodotta dall'arte. E se le cose naturali fossero generate non solo per natura, ma anche per arte, esse sarebbero prodotte allo stesso modo di come lo sono per natura, che l'una cosa ha come fine l'altra. Insomma, alcune cose che la natura è incapace di effettuare, l'arte le compie, altre invece le imita. E se dunque le cose artificiali hanno una causa finale, è chiaro che è così anche per le cose naturali. Infatti, il prima e il poi si trovano in rapporto reciproco alla stessa guisa, tanto nelle cose artificiali quanto in quelle naturali. Ma in particolar modo c'è manifesto negli altri animali, che non agiscono né per arte né per ricerca né per volontà. Tanto che alcuni si chiedono se alcuni di essi, come i ragni, le formiche e altri di tal genere, lavorano con la mente o con qualche altro organo. E per chi procede così gradatamente, anche nelle piante appare che le cose utili sono prodotti per il fine, come le foglie per proteggere il frutto. Se dunque, secondo natura, in vista di un fine, la rondine crea il suo nido e il ragno la tela e le piante mettono le foglie per i frutti e le radici non suma giù per il nutrimento, è evidente che tale causa è appunto nelle cose che sono generate e esistono per natura. E poiché la natura è duplice, cioè come materia e come forma, e poiché quest'ultima è il fine e tutto il resto è in virtù del fine, questa sarà anche la causa, anzi la causa finale. Vediamo come poi Aristotele continua a supportare il suo ragionamento, prima facendo questa analogia tra natura e arte, cioè così come le cose artificiali sono fatte in imitazione della natura e sono fatte in vista di un fine, allora anche la natura stessa deve le cose che fa, le fa in vista di un fine. E in seguito, un'ulteriore riflessione su tutto ciò che avviene nel regno vegetale animale, i ragni non tessono la tira per caso, le piante non mettono le foglie per caso, ma in vista di un fine, quello di catturare degli insetti per quanto riguarda il ragno, quello di proteggere i frutti per quanto riguarda la pianta. Quindi la finalità nell'universo, secondo Aristotele, è assolutamente evidente. Quindi, come abbiamo letto, vediamo che Aristotele propone una concezione finalistica dell'universo, del cosmo, cioè tutto avviene in vista di un fine, tutto avviene per un motivo, per raggiungere un obiettivo, diciamo, rifiutando completamente la concezione meccanicistica di Democrito, basandosi appunto sulla regolarità della natura, su tutto ciò che avviene in natura. Però, bisogna fare una precisazione, quello di Aristotele è un finalismo immanente, nel senso la finalità non è dettata da qualcosa di trascendente, dall'esistenza appunto di una provvidenza divina, diciamo così, non c'è un'intelligenza divina esterna che guida questo processo, no, la finalità, la natura ha una finalità tutta interna a se stessa e che regola tutto lo sviluppo e tutto il movimento. Torniamo adesso, per concludere il vostro discorso, a parlare dell'universo aristotelico e facciamo un po' risunti quello che abbiamo detto e aggiungiamo un altro paio di elementi guardando questa immagine dell'universo secondo Aristotele. Come vediamo appunto l'universo aristotelico è un cosmo sferico, anzi meglio costituito, da una serie di sfere concentriche dove abbiamo la Terra al centro, composta di elementi terra e acqua, attorneata dalla sfera dell'area del fuoco e poi abbiamo tutta una serie di sfere relative ai vari corpi celesti, la sfera della Luna, quella di Mercurio, la sfera di Venere, la sfera del Sole che quindi ruota intorno alla Terra, Marte, Giove, Saturno e infine la sfera delle stelle fisse. L'universo aristotelico quindi è un universo che ha determinate caratteristiche, è perfetto, in quanto nei cieli tutti i corpi celesti sono perfetti, si muovono solamente di moto circolare uniforme, l'universo è eterno, esiste da sempre ed è un universo finito, come per quasi tutti i greci abbiamo visto. Anzi, secondo Aristotele nessuna cosa è infinita, tutto ha uno spazio e un limite, quindi anche l'universo che infatti ha il suo limite nella sfera delle stelle fisse. Quando usiamo la parola sfera intendiamo letteralmente delle sfere, qualcosa di solido e di impenetrabile. In generale possiamo dire che questo tipo di universo, questo sistema geocentrico che poi verrà ripreso e sviluppato da Ptolomeo, tanto che diventerà il cosiddetto universo aristotelico-tolemaico, che perdurerà nella mentalità comune, perlomeno così come nella scienza, fino al XVI-XVII secolo. Ecco, dicevamo che questo universo, possiamo anche dire che è diviso in due grandi zone. Il cosiddetto mondo sublunare, cioè tutto ciò che sta sotto la Luna, quello che abbiamo detto è costituito dai quattro elementi, acqua, aria, terra e fuoco, secondo i loro movimenti naturali e violenti, e il mondo sovralunare, costituito, come abbiamo già detto, da etere, in cui ci sono tutti i corpi celesti perfetti, immutabili e che si muovono di movimento circolare uniforme. Su questo tema, su quello dell'affinità dell'universo e perlomeno del tentativo di Aristotele di smentire alcune teorie, quelle di Democrito appunto che abbiamo già citato, facciamo un'altra lettura. Se un corpo ha peso o leggerezza, ci sarà nell'universo o un limite estremo o un centro, ma questo è impossibile se esso è infinito. In generale, dove non c'è né centro né limite estremo e nemmeno un alto e un basso, non va neppur luogo il movimento dei corpi. Da quanto esposto risulta dunque evidente che il corpo del tutto non è infinito. Ancora, è necessità che tutti i mondi siano composti dagli stessi elementi, dal momento che hanno identica natura. Ma è necessario anche che ciascuno di questi corpi abbia ovunque la stessa potenza. È evidente dunque che di essi gli uni per natura si muovono allontanandosi dal centro, gli altri in direzione del centro, se il fuoco deve essere sempre identico al fuoco. E così ciascun altro elemento, come lo sono anche le parti di fuoco che si trovano in questo mondo. Ne consegue che le parti di terra che si trovano in un altro mondo avranno per natura la proprietà di muoversi anche verso questo centro, e il fuoco che è lassù anche verso questo estremo. Ma questo è impossibile, perché se fosse così la terra dovrebbe muoversi secondo natura allontanandosi dal centro e dirigendosi verso un altro centro, dato che questo è il rapporto in cui si troverebbero reciprocamente i vari mondi. Infatti, o non si deve porre che la natura dei corpi semplici sia la stessa nei diversi cieli, oppure, se si afferma questo, è necessità fare uno il centro e uno l'estremo. Ma se è così, non è possibile che vi siano più mondi. Ecco, in questo testo Aristotele va a smentire due teorie riguardo all'universo che sono innanzitutto della sua infinità, per cui l'universo non può essere infinito, perché se fosse infinito lui ci dice che non potrebbe, non essendoci un alto e un basso, non potrebbe esserci neppure il movimento dei corpi. E nella seconda parte, invece, cerca di smentire la teoria per cui ci possono esistere infiniti, più mondi, più centri. Il mondo deve essere solamente uno, perché altrimenti, oltretutto qui Aristotele un po' magari consapevolmente andando a ipotizzare quella che potrebbe essere la teoria di attrazione dei corpi tra loro, che poi sa, quella che poi Newton svilupperà come la legge di gravitazione universale, ci dice che è impossibile che ci siano più mondi, perché altrimenti la Terra, muovendosi secondo natura, dovrebbe andare verso un altro centro, se non fosse essa stessa il centro. Diciamo che questa visione aristotelica, che poi ovviamente sarà smentita dall'astronomia moderna, contribuisce a cristallizzare la visione del cosmo intorno alla sua idea, l'autorità di Aristotele in materia, diventerà sempre più importante, considerata sempre più impossibile da mettere in dubbio, tanto che quelle sporadiche teorie che già c'erano nel mondo greco sull'infinità dell'universo, sulla possibilità dell'esistenza di infiniti mondi, cadranno nel dimenticatorio e saranno poi riprese solamente in epoca moderna. Infine, per concludere questo nostro studio della fisica aristotelica, diciamo molto sinteticamente qual è la concezione aristotelica di spazio e tempo. Lo spazio. Per quanto riguarda questo concetto, secondo Aristotele non esiste il vuoto. Ecco, sto andando a smentire un'altra delle cose che aveva affermato Democrito. Cioè, lo spazio non è concepibile indipendentemente dai corpi dentro di esso. Qualunque tipo di spazio è sempre uno spazio pieno, pieno di qualcosa, possa anche aria o etere se si parla degli spazi celesti. Un luogo è sempre un luogo di qualcosa. È come un recipiente, lo spazio, che deve essere sempre però riempito di qualcosa. Non è filosoficamente concepibile uno spazio senza qualcosa dentro. E lo stesso spazio cosmico, cioè il cosmo in sé, è il recipiente. Quindi, in verità, l'unica cosa che non è da nessuna parte è proprio il cosmo, è proprio lo spazio. Perché appunto è il recipiente di tutte le cose esistenti ed essendo il contenitore di tutto ciò che è, non si trova da nessuna parte, non ha senso chiedersi dove si trovi lo spazio. In modo simile, anche il tempo esiste solo in relazione alle cose. In particolar modo in relazione al mutamento delle cose. Lo spazio esiste perché ci sono delle cose, il tempo esiste perché le cose mutano. In un mondo di oggetti perfetti e immutabili, il tempo non esisterebbe. Quindi il tempo, già Aristotele, va a notare, questo concetto poi verrà sviluppato anche nei secoli successivi da altre filosofi, che il tempo esiste solamente in relazione al mutamento. Quindi è la misura del mutamento. Ma se il tempo è misura del mutamento, ci vuole qualcuno o qualcosa che misuri questo mutamento. E quindi già Aristotele, anche in questa pensione verrà sviluppato ad esempio a Sant'Agostino, afferma che il tempo esiste solamente in relazione all'anima umana. Se non esistesse l'anima umana, che è capace di percepire lo scorrere del tempo e quindi di misurarlo, può dire che non esisterebbe neanche il tempo. Con quest'ultima sintesi di concetti di spazio-tempo terminiamo la nostra esposizione sulla fisica aristotelica. Proseguiremo nelle prossime lezioni con altri aspetti della filosofia di Aristotele.